Per esempio, il libro è impostato in questa maniera, non so se si vede. Sì, provincia di Alessandra, Piemonte, 21 marzo 2020, quarantena, giorno 14, poi c'è il titolo. Esatto. Ciao a tutti, eccoci qua con una nuova Cigno Intervista e oggi ho il piacere di parlare con un'amica, con una scrittrice, perché sta dando alle stampe, anzi ha appena dato alle stampe il suo primo libro e tra l'altro è anche una vecchia conoscenza di Job Media TV. Intanto buongiorno e buon weekend a Martina Vaggi, ciao. Ciao Marco, buongiorno anche a te. Ciao, che sei? Bene, tu? Sto bene, sto bene, grazie. Sono molto contento perché noi ci conosciamo da un po' di anni e mi è capitato, insomma, con te nel passato di sentirti dire quanto mi piacerebbe pubblicare un libro. E è arrivata l'occasione, è un'occasione sicuramente non allegra, ne avremmo tutti fatto a me, non ne sono certo, però in realtà tu hai fatto una cosa che ha un grande significato anche a livello storico. Intanto dico il titolo, il titolo del libro è Il Diario del Silenzio, sottotitolo storie reali di quarantena ed è un sottotitolo che racconta veramente tutto. Ti va di dirmi in che periodo è nata l'idea di realizzare quest'opera? Sì, allora, diciamo che l'idea è nata nel post-quarantena, quindi più o meno verso giugno, ecco. Anche se era un libro che probabilmente era dentro di me già durante la quarantena. Nel senso che durante la quarantena io spesso, cioè praticamente quotidianamente, tenevo questo diario web perché condividevo post sul mio blog Pensieri Surreali di gente comune e in questi post io praticamente tutti i giorni esprimevo pensieri miei sulla vicenda, su ciò che stava accadendo. Quindi mettevo sempre, era proprio con una forma anche di aristica, che poi è stata poi la forma anche del libro, mettevo sempre la data e il giorno di quarantena, quindi giorno 1, giorno 30, eccetera. Durante la quarantena la mia migliore amica, che è un'infermiere, si è trovata poi a lavorare in un reparto Covid, è stata lei che mi ha detto a un certo punto, guarda Marti secondo me dovresti fare un libro, dovresti scrivere un libro e aveva ragione, però ciò di cui io poi ho preso consapevolezza dopo è stato il fatto che se dovevo scrivere un libro, se volevo scrivere un libro non potevo farlo sulla base delle mie esperienze, perché comunque della mia esperienza, perché io comunque sono rimasta a casa, quindi al di là del fare il volontariato che ho potuto fare, donazioni di sangue e quant'altro, io non potevo dare tanta, cioè tutta la testimonianza, diciamo, possibile. Allora mi sono mossa per fare in modo di trovare le persone che potessero dare al libro e agli altri di conseguenza, tutta la testimonianza della quale noi avevamo bisogno, riferita a quel periodo storico, che è anche un periodo storico che dura tuttora, perché ovviamente insomma, e quindi ho cercato di dare una testimonianza generale, di toccare tante persone, tanti tipi di lavoro, proprio di toccare un po' tutti, infatti è un libro che riguarda tutti, proprio. Conta pieno proprio tutti i protagonisti di quello che è successo e che è ancora in corso, come dicevamo. In quale modo, cioè quale tipo di metodo hai utilizzato per approcciarti ai vari protagonisti del libro? Come li hai contattati? Come hanno reagito quando si sono sentiti dire, ti va di raccontarmi una storia che potrebbe finire sulla carta, su un libro? Sì, diciamo che, allora io sono partita da conoscenze che avevo, perché comunque ho delle amiche che svolgono determinati tipi di lavori, infermiera, medico, insegnante, eccetera, e quindi loro potevano già darmi testimonianze importanti e poi la situazione è un po', diciamo, non dico sfuggita di mano, però sicuramente si è estesa a macchia d'olio, perché ovviamente le persone conoscono altre persone e così poi è andata effettivamente, da quelle conoscenze che sono cinque, sei, dieci, sono diventate poi quasi cinquanta. Ci sono cinquanta storie all'interno? Allora, le storie sono cinquanta, le persone che ho sentito sono quarantacinque, perché praticamente diciamo che è capitato che alcune persone avessero così tanto da raccontare, tale per cui non bastava un racconto, ne ho creati su misura per loro due o tre a persona, e praticamente io mi sono mossa in questo modo, la cosa incredibile diciamo è stato il fatto che io abbia fatto tutto questo in due mesi, perché io in questi due mesi ho contattato le persone, ovviamente dietro ai loro tempi, che è stata la cosa forse più difficile perché ognuno di noi ha una vita e quindi insomma è stato complicato, le ho contattate e quando si poteva le incontravo, quindi le incontravo, facevo questa intervista che non era un'intervista, non mi piace neanche chiamarla così, era un darmi testimonianza, quindi un raccontarmi di quel momento della loro vita. Io nel momento in cui le incontravo la cosa era molto positiva perché capitava che magari avessi davanti l'infermiera del reparto Covid che mi raccontava di come quel giorno si è inginocchiata sul pavimento a piangere, si è messa le mani tra i capelli e in quel modo io riuscivo ad avere un'immagine ben più precisa di quello che lei aveva vissuto. Gli altri che non ho potuto incontrare, le altre testimonianze, li ho contattati io su Skype o per telefono, quindi li ho sentiti dalla voce. Ovviamente poi c'erano persone che riuscivano a trasmettere molta emozione, molto pathos anche da una chiamata. E poi il lavoro, diciamo che io fin qua sostanzialmente quello che ho fatto fino a qui è stato ascoltare le persone e l'ascolto è una cosa a cui non siamo più secondo me abituati, nel senso che purtroppo io lo vedo tutti i giorni, nel quotidiano, le persone non ascoltano più e io le ho ascoltate, cioè sono rimasta, tieni conto che erano anche chiamate che duravano due ore, quindi insomma sono rimasta in silenzio, le ho ascoltate e questo mi ha permesso poi di mettermi nei loro panni e di scrivere un racconto dalla loro parte, fondamentalmente. Beh, mettersi nei panni di qualcun altro è un lavoraccio spesso, no? Non è semplice, soprattutto nei panni di qualcuno che ha vissuto o sta vivendo una situazione di estrema difficoltà. Immagino sia stato anche psicologicamente impegnativo per te, no? Sì, sì anche perché, vabbè, io come tipologia di persona sono abbastanza sensibile, quindi questo purtroppo ti porta a vivere molto bene la felicità e molto male e dolore e quando ti, secondo me forse poi è anche questo il motivo per cui tante persone non ascoltano e non si vogliono mettere nei panni degli altri, perché se sei sensibile e provi a metterti nei panni degli altri, stai male, cioè e quelle persone ti raccontano che hanno sofferto, stai male anche tu. Io mi capitava spesso quando scrivevo di determinate situazioni che piangevo, cioè piangevo mentre scrivevo e le vivevo così, nel senso che le ho proprio interiorizzate e secondo me è l'unico modo per mettersi nei panni di una persona, perché altrimenti non ce la fai e io poi ho chiesto ad alcuni di loro, conferma, di questi racconti, nel senso che nel caso degli infermieri magari mandavo loro il racconto e gli chiedevo dimmi se ho reso l'idea, perché io non c'era ovviamente e loro, tutti loro mi hanno sempre detto che avevo reso appieno proprio la situazione, quindi è stato sicuramente a livello emotivo, sì, è stato comunque tosto, sì. Qual è stata la storia più difficile da ascoltare e poi da scrivere sul libro? Ma all'inizio io pensavo che sarebbe stato molto dura scrivere di infermieri e medici, operatori sanitari, perché loro in quella parte, nella prima parte diciamo così, chiamiamola così, della pandemia, sono stati loro, nel senso tutti noi guardavamo a loro, l'emergenza era sanitaria, poi successivamente è diventata di altro tipo e quindi io mi dicevo, sottovalutandomi anche come sempre, mi dicevo ma io come posso mettermi nei panni di qualcuno che è stato in reparto, cioè non è possibile e invece poi forse sono riuscita meglio a mettermi nei panni loro che di altre persone, io credo che i racconti per me diciamo più, non dico difficili, ma quelli in cui forse ho dato un po' meno, sono stati racconti dove c'era meno pathos, cioè dove emergeva meno pathos, cioè meno emozioni, perché paradossalmente io riuscivo a scrivere meglio di loro se dietro al loro racconto c'era del dolore o dei sentimenti molto forti, anche per esempio i racconti che riguardano la fede, quindi c'è un racconto che riguarda un sacerdote, un prete volontario, anche quelli mi sono riusciti molto bene, perché io ho legato questo periodo storico molto anche alla fede, che poi è stata per me la riscoperta anche della fede, nel senso, e l'ho legato molto perché abbiamo visto tutti l'immagine anche del Papa che parlava a una piazza vuota, insomma credo che l'abbiamo vista tutti anche perché eravamo in casa e quindi in determinati racconti sono riuscita a far emergere bene il lato umano, umanitario eccetera, nei racconti dove questo invece non emerge ho fatto più fatica Mi piacerebbe sapere nel confrontarti con queste persone e poi nell'assumerti la responsabilità di raccontare le loro emozioni, le loro frustrazioni, le loro paure, le loro sofferenze se hai effettivamente imparato qualcosa per te stessa e che potrà tornarti anche utile, tra virgolette, in futuro Guarda, sinceramente non ho fatto altro che imparare, nel senso, prima di tutto ad ascoltare perché come io dico che l'80% delle persone non ascolta più, anche io spesso non ascolto quindi ho imparato sicuramente ad ascoltare, ho imparato che le persone rendono quando tu le valorizzi e il valorizzarle parte sempre dall'ascolto, quindi ascoltarle, cercare di capirle e tutti noi vogliamo questo, tutti noi vogliamo avere qualcuno che ci ascolti e che prenda anche insegnamento dalla nostra storia, io vedevo per esempio negli infermieri un riconoscimento nel lavoro che stavo facendo io e loro proprio si vedevano a palese, erano molto contenti di condividere nonostante la situazione per loro fosse stata, insomma, tragica e quindi ho imparato ad ascoltare, ho imparato che, appunto, mettersi nei panni degli altri è parecchio doloroso, più delle volte, ma ho imparato anche, soprattutto, per quanto riguarda la mia vita a ricredermi su vari aspetti, su vari lavori anche io avevo tanti pregiudizi su determinate persone che ho incluso nel libro e su determinati lavori anche quando mi sono messa lì, mi sono seduta al tavolo e ho ascoltato, non lo so, l'insegnante che mi parlava della didattica a distanza mi sono comunque un po' ricreduta su determinati aspetti c'è stata una sfida anche per me, forse sono io che ho anche sfidato me stessa, non lo so cioè, è stato un continuo imparare, sicuramente Viviamo ancora adesso, purtroppo, in un periodo in cui tutti noi abbiamo, sentiamo la necessità di tornare a sperare, di tornare ad avere fiducia nel mondo, in ciò che ci circonda nel nostro lavoro, nella nostra salute, nella sanità insomma, viviamo in un periodo storico in cui c'è bisogno di messaggi positivi nel realizzare questo libro, nel raccontare storie che probabilmente non partono da una radice positiva hai tenuto conto di questo? Diciamo che è un po' il filo conduttore del libro infatti è per questo che c'è molta spiritualità c'è anche, c'è fede ma c'è molta spiritualità soprattutto e secondo me il lato umano che emerge da ognuna delle mie testimonianze, io le chiamo così da ognuna di queste persone che io ho sentito il lato umano che emerge è preponderante ed è proprio quello che deve emergere effettivamente ognuno di questi racconti porta a livello umano qualcosa di positivo le persone che ho sentito che ho ascoltato sono persone che hanno contribuito ognuna di loro in qualche modo non solo alla nascita di questo libro ma anche proprio a portare del bene fondamentalmente il bene è il tema che attraversa il libro e credo che alla fine tutto si traduca proprio diciamo come hai detto tu abbiamo vissuto un periodo catastrofico lo stiamo vivendo ancora la cosa migliore che si possa fare anche se è stato difficile è proprio quella di prendere qualcosa di catastrofico di traumatico di drammatico e estrapolare esempi esempi di vita e questo è ciò che rappresenta il libro fondamentalmente sono esempi di vita oltre che una testimonianza storica sicuramente ma sono proprio esempi di vita di come non lo so anche in un momento del genere ci siano state persone o aziende che hanno dato un contributo positivo io per esempio ho fatto determinati esempi non lo so per esempio ci sono state aziende che hanno anticipato la cassa integrazione ai dipendenti ci sono stati gli infermieri i medici che si sono sostituiti ai parenti nel tenere la mano a quelle povere persone che sono morte da sole ci sono stati quelli che sono andati a donare il sangue hanno accalcato comunque le strutture perché c'è sempre la necessità di una azione ma in quel momento vi era ancora di più la sarta del mio paese si è messa a cucire 5.000 mascherine al giorno perché non ce n'erano ogni esempio anche il più banale secondo me noi ci dimentichiamo secondo me troppo spesso che il bene c'è e non è sepolto brava sono d'accordo con te anche perché soprattutto negli ultimi tempi emerge moltissimo tutto il male che si è creato attorno alla questione covid anche i telegiornali raccontano davvero episodi estremamente negativi in questi giorni avvengono non le proteste quelle che è giusto che ci siano ma delle proteste da condannare perché sono assolutamente lontanissime da quello che è secondo me il vero significato di una protesta anzi creano ulteriori danni ulteriori problematiche e tu hai voluto dare spazio a chi invece ha fatto del bene e da una situazione di estrema difficoltà ha cercato di imparare di costruire qualcosa di fare qualcosa di costruttivo e che tornasse utile per se stesso e per gli altri quindi benvenga che davvero c'è un libro che lo racconta un libro che rimarrà negli anni cioè a me piace sottolinearti questa cosa che ha un valore storico importantissimo perché tra 10 20 30 anni chi vorrà potrà prendere in mano questo libro e scoprire che prima di lui c'è stato qualcuno che ha combattuto affinché il mondo potesse migliorare che i problemi si potessero risolvere sei consapevole di questa importanza? Sì sì cioè sono consapevole che sono testimonianze storiche di momenti di un momento storico e sì diciamo diciamo di sì forse ancora non ho realizzato neanche di averlo scritto non lo so perché forse non l'ho ancora realizzato poi vabbè quando ho visto il cartaceo vabbè insomma lì ho realizzato un po' di più ce l'hai il cartaceo? è lì con te? vediamo vediamolo è qua c'è il segnalibro perché lo stava leggendo mia madre eccolo qua ma a proposito bellissima la copertina molto suggestiva questa immagine sì e chi l'ha scattata? allora la copertina è semplicemente una foto sì che ho scattato io è tua sì ok è una foto mia che ho scattato proprio durante la quarantena quindi ha un valore è proprio legata al periodo in tutto e praticamente l'ho scattata quando andavo nei dintorni quando uscivo con i cani a passeggiare e riguarda appunto è un paesaggio delle mie zone praticamente della campagna vicino a dove vivo io e quindi ha un valore importante anche per quello insomma non poteva forse esserci più copertina che più rispecchiasse quel momento poi vabbè era difficile rappresentare il silenzio che è il filo conduttore di tutto il libro oltre al bene e alla spiritualità il silenzio è qualcosa che abbiamo percepito e toccato con mano tutti in quel momento e quindi diciamo che era difficile rappresentarlo con un'immagine e secondo me questa foto che poi è diventata una copertina lo rispecchia molto bene secondo me tra l'altro per il fonte del titolo hai scelto proprio un carattere corsivo che richiama un po' il diario no? sì sì ho scelto esatto questo sia per il titolo che per il sottotitolo e sì e anche per il nome praticamente diciamo che anche lì ho osato un po' nel senso che io volevo il corsivo ho fatto passare tantissimi corsivi ma il corsivo è un po' difficile da usare perché rischi poi che non si legga bene che non si capisca e invece questo rispecchia proprio lo stile del diario insomma perché alla fine il libro proprio è impostato come una sorta di diario esatto praticamente il libro vediamo per esempio il libro è impostato in questa maniera non so se si vede sì provincia di Alessandra Piemonte 21 marzo 2020 quarantena giorno 14 poi c'è il titolo esatto ogni racconto perché sono racconti collegati tra loro nel senso che io a volte alcuni personaggi che mantengono il loro nome il nome creato da me quindi un nome diciamo che ho scelto io per loro alcuni personaggi si vengono ripresi in altri racconti quindi diciamo che ogni racconto è indipendente questo è vero però si legano tra loro e appunto il libro è strutturato come un diario quindi ogni ogni racconto ha il luogo la regione la data e quarantena giorno 1 quarantena giorno 50 e praticamente volevo questa rappresentazione proprio a livello sia grafico ma sia storico anche perché in quel momento ogni regione poi ha affrontato ha affrontato la quarantena in maniera diversa perché la pandemia almeno nel primo momento quindi nella prima fase diciamo che abbiamo passato non è stata uguale per tutta Italia perché chiaramente Piemonte Lombardia Emilia Romagna cioè Veneto l'hanno subita in un modo la Campania che io ho citato la Calabria l'ha subita in un altro e secondo me era importante dare testimonianza appunto di come le varie regioni poi non ho potuto toccarle tutte l'abbiano affrontata e quindi sono andata a cercarmi testimonianze del sud anche ho trovato un infermiere di Napoli ho trovato poi una signora della Calabria ho trovato poi un'altra persona di Roma e poi ho trovato un paziente della Toscana insomma pian piano sono scesa sono scesa diciamo lungo l'alpenino per cercare testimonianze che devono essere un'idea generale della situazione facciamo un piccolo tuffo nel passato anche perché l'abbiamo detto all'inizio tu qua su Jam Media TV hai fatto un po' di cose tra l'altro detieni ancora il record della puntata di Vox Populi più vista della storia e hai scritto anche per dei giornali locali hai scritto per dei giornali online testate online eccetera le tue esperienze del passato in tutte queste cose che ti ho nominato ti sono tornate utili nella realizzazione di questo libro e se sì perché in quale modo allora mi è tornata sicuramente utile diciamo l'esperienza che ho avuto con te adesso non lo dico perché ci sei tu qui lo sai nel senso te l'ho comunque sempre detto che tu mi hai insegnato comunque tanto e a livello anche di intervista appunto hai nominato il Vox Populi che facevamo per le strade della città e quelle erano appunto interviste interviste a persone comuni che incontravamo e qua non è stato diverso l'unica l'unica cosa è che io non mi sono mai preparata le domande perché per me non era una vera intervista perché secondo me le persone se tu le imposti come un'intervista giornalistica secondo me non emerge la spontaneità e qua doveva emergere la spontaneità i pathos l'emozione l'emotività e capitava che le persone che io intervistavo magari si mettessero anche a piangere cioè capitava di tutto e a me è servito comunque l'impostazione quella che mi hai trasmesso tu quella che io imparavo vedendo te per esempio mi è servita mi è servito sicuramente poi vabbè ovviamente tutto serve anche se tu non te ne rendi conto nel senso mi è servito vabbè ovviamente tutta la pratica che io ho fatto per quanto riguarda la scrittura ne ho fatta tantissimo perché tantissima perché tra i giornali sui quali ho scritto i blog che ho tenuto io per anni comunque mi è servito tutto questo e tutto il resto ti dico la verità è stato un esercizio che io ho fatto partendo da me nel senso che è un percorso io in questi anni ho fatto un percorso con una persona che io nomino nel libro che ha un racconto proprio che è la signora T io ho fatto un percorso con lei scrivo spesso di lei sul tuo blog pensieri sorreali di gente comune citi spesso questa signora T esatto quindi io ho fatto questo percorso con lei che mi ha portato insomma a lavorare molto su me stessa e grazie a tutto questo lavoro secondo me il libro è il frutto di tutto questo lavoro ti dico la verità anche se non parlo tanto di me ma parlo degli altri però mi è servito lo immagino ma perché lo dicevamo anche all'inizio insomma poi lasciarsi trascinare dalle emozioni degli altri non è semplice è rischioso bisogna conoscersi bisogna avere forza trovare anche coraggio di avere empatia con qualcun altro è un esercizio piuttosto complesso alcune volte per cui complimenti allora questo è un primo traguardo nel senso che è una prima opera che sogni hai da neoscrittrice cosa ti piacerebbe fare in futuro vabbè diciamo che io ho sempre voluto fare questo tu lo sai spesso eri tu anche che mi incoraggiavi e purtroppo sembra un sogno irraggiungibile nel senso poterlo fare nella vita è un po' il dilemma di ogni artista alla fine poter vivere della propria arte e mai come ora è evidente questo questo dilemma insomma io una cosa che ho imparato dalla quarantena da quello che vedevo dalle persone che morivano dal lavoro che iniziava a mancare dalle persone che perdevano il lavoro io ho imparato che non possiamo vivere proiettati nel futuro è una cosa che non possiamo fare non possiamo permetterci di farlo perché in questo momento se dovessimo guardare a un futuro un futuro non c'è per nessuno di noi probabilmente poi c'è chi è più fortunato non ho dubbi ma noi possiamo guardare a una cosa che è il qui e ora ed è il presente il presente è l'unica cosa che abbiamo quindi io in questo momento penso cioè mi impegno ovviamente per divulgare il libro il più possibile farlo conoscere far conoscere le storie di queste persone che mi stanno aiutando ovviamente anche le mie amiche insomma mi stanno aiutando proprio nel diffonderlo sicuramente il mio pensiero sta già andando a un altro libro che ho dentro di me e che è collegato a questo da un racconto ed è stato un po' anche forse uno dei motivi per cui ho scritto questo libro però per il momento non lo so perché come ti ho detto già ne abbiamo già parlato scrivere un libro è un lavoro enorme che nessuno immagina forse e quindi ne esce abbastanza esausto alla fine però ti sei occupata poi di tantissimi aspetti voglio dire è quasi un'autoproduzione no? quasi totalmente per cui ci sono passato anch'io so davvero che cosa vuol dire occuparsi di tutto quello che riguarda la pubblicazione di un libro allora divulghiamolo questo libro primo rifacciamolo vedere copertina vediamolo il diario del silenzio storie reali di quarantena libro che è disponibile sia in formato digitale che in formato cartaceo dove si può trovare raccontacelo allora dunque io l'ho distribuito cioè l'ho inserito su una piattaforma che è streetlib e da questa piattaforma poi il libro è stato distribuito sia in formato ebook sia in formato cartaceo su amazon ibs è presente ho guardato è uscito in questi giorni anche su sul sito della mondadori quindi online sulla fei trinelli e su altri siti per esempio su cobo che si occupa di ebook e questa è la distribuzione diciamo online di cui mi sono occupata c'è poi un'altra distribuzione che è quella cartacea che è a parte quindi io l'ho fatto proprio stampare in una tipografia lo stanno stampando in questi giorni in queste settimane e l'avevo fatto stampare ovviamente poi per poter fare delle presentazioni e in questo momento non sarà possibile quando si potrà insomma quindi ovviamente il cartaceo verrà poi distribuito sicuramente lo distribuirò nelle librerie diciamo locali ecco per quanto riguarda l'online ho visto che molti lo stanno acquistando su amazon che rimane sempre un po' il punto di riferimento perché ok quindi diciamo che online è possibile acquistare sia l'ebook che la versione cartacea esatto dopodiché sarà possibile durante le presentazioni quando si potranno fare acquistare la versione cartacea e magari avere anche la tua firma e la tua fisica ok sì sì allora speriamo di poterci risentire presto per dare le date delle presentazioni non vedo l'ora di poter annunciare queste date grazie è stato un piacere riaverti qua con il logo di Jab Media TV vicino al nostro volto in bocca per tutto quello che stai per combinare voglio ricordare anche chi ti vuole seguire costantemente al di là del libro tu hai un blog che si appoggia alle pagine Facebook e Instagram pensieri surreali di gente comune esatto sì esatto e lo aggiorno quotidianamente quindi sì esatto è vero seguitela mi raccomando a tutti quanti grazie grazie di cuore e a presto grazie a te grazie mille ciao ciao grazie per aver guardato questo video se ti è piaciuto ricorda di mettere un mi piace per non perdere tutti i nuovi video di Jab Media TV iscriviti al canale ed attiva la campanella grazie a te grazie a te